effettivamente vedersi stagliare davanti a sé un muro di grigio perché non è stato mai ristrutturato purtroppo quindi mostra tutti i suoi anni un muro grigio dritto di un chilometro davanti a te effettivamente non accoglie è vero ma da quella attribuire al palazzo altre appunto attributi ce ne passa pur essendo stato progettato da mario fiorentino con il massimo diciamo delle idealità che l'ha mosso e avendo lui previsto ai quarti piani questi servizi che avrebbero dovuto rendere cordiale una città autosufficiente e aver chiamato questi quarti piano i boulevard questi boulevard purtroppo sono stati progettati in modo adesso poi lo vedremo che all'angolo dopo l'angolo gli angoli sono ciechi non vedi cosa ti può diciamo accadere dopo e ovviamente bui perché la manutenzione dell'ader è completamente inesistente in avanti iniziava la parte arancione la parte verde cioè era era la mappa del la mappa la mappa e quindi colore è vero e quindi e 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